Il tema è tecnico, non è un tema politico, ci si confronta sugli strumenti, lo strumento della costituzione di parte civile è certamente uno strumento buono, efficace, noi riteniamo che ve ne sia un altro ancora più efficace. Niente via libera la costituzione del comune di Arezzo a parte civile nel processo Coingas, nel quale sono coinvolti come imputati tra gli altri il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore al bilancio Alberto Merelli. Ricordo che siamo in un paese dove vale il principio di non colpevolezza, quindi siccome qui nessuno scappa, qualora dovessero prefigurarsi reati veri e non presunti, ci sono tutti i tempi e tutti i modi per rivalersi e ovviamente non si guarda in faccia a nessuno. Questo quanto è deciso dalla giunta a retina in vista dell'udienza preliminare fissata per il prossimo 23 marzo. Il strumento che noi proponiamo è quello di un'azione civile nei confronti di chi in ipotesi dovesse essersi macchiato di reati di peculato, cioè aver di fatto sottratto beni a lente. Di tutt'altro avviso invece le opposizioni in consiglio comunale che avevano presentato una mozione per aderire alla costituzione di parte civile richiesta respinta. Ci potrebbe essere un danno di immagine, ci potrebbe essere il fatto che il comune possa richiedere ai imputati, nel caso che vengano condannati, un usaggimento dei danni. Quindi è fondamentale che si dovisca ora all'inizio dell'udienza preliminare e non dopo. Stessa richiesta era stata avanzata anche dai sindaci di centro-sinistra nel corso dell'assemblea dei soci di Coingas, chiamati anche loro ad esprimersi sulla costituzione a parte civile. Niente da fare però nemmeno in questo caso, determinante il voto contrario di Arezzo, socio di maggioranza di Coingas e l'astenzione di Bibiena, favorevoli invece tutte le altre amministrazioni comunali.